Si comincia naturalmente con la vigilia durante la quale si preparano le cosiddette vampe, le cataste di legni, alcune altissime, realizzate con vecchi mobili, materiale di recupero, di scarto. L'importante è che sia di legno. Sono solitamente i più giovani, i ragazzi, coloro che realizzano la catasta per la vampa che viene poi accesa nel tardo pomeriggio del 18 nella notte del 19 marzo. Il rituale tutto moderno prevede una lotta spesso imperi tra i custodi delle cataste pronte per diventare vampe e i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La tradizione continua a vivere soprattutto nei quartieri popolari, nelle periferie e nelle borgate, spesso in zone ad alto rischio. Se quasi sempre l'intervento viene attuato a vampa conclusa, bisogna pur sempre eliminare gli ultimi focolai, qualche volta la festa viene guastata, come ieri sera nel quartiere Zen, dove una sassaiola ha colto i calabinieri e i vigili del fuoco che volevano smontare una gigantesca catasta. Quello della vampa di San Giuseppe è un rito che coincide con la fine dell'inverno e l'inizio della primavera, attraverso una delle testimonianze del passaggio di elementi pagani nella religiosità popolare, elementi che sono stati poi assorbiti e risignificati in funzione del culto cristiano. Nella tradizione popolare, infatti, il fuoco costituisce un'offerta al santo che patì il freddo nella grotta di Betlemme, che bruciò il suo mantello e andò di casa in casa alla ricerca di un po' di braccia per riscaldare il bambino Gesù e la Madonna. Ma oggi ci sono altri due elementi che fanno compagnia alle vampe già spente. La sfinge di San Giuseppe, trionfo della pasticceria palermitana, la si trova tutto l'anno ma quella del 19 marzo, secondo la leggenda popolare, è più buona, chissà perché. È fatta con pasta fritta delicatamente, farcita di ricotta fresca, guarnita con frutta, grande, piccola, maxi e lei per tutta questa giornata la regina della tavola a Palermo. Certo con gli anni sono arrivate le contaminazioni, alla ricotta si sono affiancate la crema gialla, la crema di cioccolato, la crema di pistacchio, ma la tradizione, se deve essere rispettata, non ammette deroghe. Ricotta, punto e basta. La pasticceria dei giorni di festa si accompagna infine al culto delle tavole o delle menze imbandite con il pane di San Giuseppe, una tradizione questa ancora ben presente in numerosi paesi della provincia ma anche in tante altre zone della Sicilia. A Palermo l'associazione culturale Ricreando ha realizzato un altare di San Giuseppe in via Aurispa 34A. Il pane viene poi benedetto e distribuito. L'altare è stato realizzato con addobbi del Seicento e presenta delle vere e proprie sculture di pane legate alla tradizione cristiana della festa. Il tavolino davanti all'altare rappresenta la sacra famiglia. Il recupero di una tradizione si unisce anche ai temi della solidarietà sociale. La sede dell'associazione infatti è un bene sequestrato alla mafia. Per otto giorni facciamo visitare quest'altare a tutte le persone di questo quartiere e poi domani sera concludiamo con una cena è aperta a tutti. Passa con le sarde e sfincette per tutti. Musica. Fare benedetto daremo pure. Mi diceva anche che ci sono stati tanti bambini oggi. Stamattina sono venuti tutti i bambini dalle scuole. Ogni giorno vengono che hanno saputo che c'è quest'altare. Lei è una delle poche che continua ad organizzare e a portare avanti questa tradizione? Se resistono nel tempo. Come mai? Perché io ho fondato questa associazione nel 2001 e da molti anni porta avanti tutta questa tradizione. Questo è un bene confiscato alla mafia e anche fare capire ai bambini che da una cosa bruttissima possono nascere tante cose belle.